vai fenomeni partiamo subito con il gameplay numero 22 di Techrew eccoci qui vai vai andiamo a fare subito questa gara su vai 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 che oggi sono pimpante vinco tutto a primo colpo ecco voglio vedere ecco non prendete in parola quello che vi ho detto ci stiamo avvicinando hai detto bene trovato nulla su campo si un rapporto dell'fbi dice che durante una disputa territoriale shiba ha sparato alla moglie di campo è morta già da quel momento la sua missione è distruggere shiba e 510 si è preso gli stati del sud ma credo punti molto più in alto ok allora ho fatto finire il discorso e ora posso parlare io facciamo prendere parola brado che dice cose più giuste oh allora vediamo un po qui vai allora quanti chilometri sono ancora vabbè ne sono un po ragazzi ne sono un po per arrivare in gara ma bisogna farlo bisogna farlo e beh ancora questa porta sfiga ragazzi ma porta sfiga la grande in una maniera assurda cioè non può parlare ecco il gioco ogni tanto si impunta però è normale è normale corro 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 e beh mancano solo dieci chilometri mancano solo dieci chilometri qui in mezzo allo sterrato ok a brado dove cazzo vai ma tutto sterrato qui per arrivare no 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 e vabbè tanto è sterrato ragazzi cosa cambia che vado un po mezzo le fratte qui mezzi boschi vabbè vabbè facciamo le persone serie che poi detto da me ok ok eccomi eccomi che arrivo 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 e arriva arriva diablo questa la facciamo ragazzi la prova come sempre fino a che la strada è quella giusta dopodiché no vabbè se cambia strada io vado per la mia strada ecco ci siamo capiti insomma allora no no vedi qua di qua qui si stringe sempre di più eh vai medaglia di bronzo almeno dai dammi il bronzo ecco qua ecco qua ecco qua eh vabbè bronzo ragazzi bronzo vabbè invia pezzi al quartier generale bene 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 vai un po di asfalto no ancora no ancora no ancora no ancora no è presto per l'asfalto è presto sento l'asfalto rovente ragazzacci ok ok oh oh dove vai dove vai dove vai maremma bradaiola oh qui 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 ecco qua l'asfalto ora si inizia a correre allora ora si può correre vai 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 ora si corre si corre eccomi eccomi in grande spolvero vieni qui vieni qui eh vabbè quanto manca 4 km se boffa se boffa se boffa tutto con brado funziona alex la gente comincia a ricordare come era prima di camp funziona davvero perché hai chiamato la prossima mossa devi battere un altro vecchio record di camp ah un altro vecchio record a posto a posto ecco su asfalto si va e si va la grande eccomi eccomi yeah yeah ma che affermativo ma state zitti state zitti ecco ho fatto un bordello ho fatto un bordello ecco gli sbirri qui vabbè ok ci siamo ci siamo ma perché ora corre perché ok vai sono sfuggito dalla polizia vai l'indiziato è fuggito ripeto l'indiziato è fuggito leonardo sto registrando ecco qua vai in singolo facciamo questa gara vediamo un po' ah ecco inizia ad essere un po' richiede il livello auto 370 io ho 396 credo che tu sia pronto a battere un altro record storico di camp sta attento è veloce come un fulmine ecco io andrò veloce come la luce bravissimo se vuoi essere l'erede al trono dimostra di avere la stoppa io direi che andrei veloce come una cacarella però va bene anche vai vai corri così corri così come un pazzo scatenato allo stato brado yeah ecco qui l'ho vista in ritardo la curva che era lì vi dico la verità ragazzacci però è così e voilà vabbè lì ho fatto una manovra brada non si può di nulla non si può dire nulla ok spariamo un po' di nos recuperiamo un po' di gas di tempo ancora leonardo sto registrando non è che sony potrebbe inserire come si rimuove le notifiche lì qualche aggiornamento qualcosa no eh vabbè allora vediamo un po' di sterzare qui ok ok vai batto anche sto record e lo mando a fare in culo vai così bradone vai eccomi 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 quattro chilometri ancora ragazzi quattro chilometri vai qui in rettilineo come si snossa yeah voilà e vabbè vado questa gara ragazzi sto facendo non so ho paura da panico cioè vado bene vado la grande per una volta vado perfetto corri 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 vai e inizia a dare i suoi frutti potenziando la macchina vai un chilometro e quattro si 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 lo batto anche quest'altro record lo batto lo batto senza problemi ma dai corri corri dai vai rettilineo finale e vai grande vai medaglia d'oro d'oro voglio medaglia d'oro che stavo dicendo bronzo ma voglio oro qui uh livello 30 ragazzi livello 30 vabbè argento argento dai vai 4 e 31 yes con un ottimo livello 30 si si accidenti sei stato davvero davvero veloce cosa ti sorprende chica ce l'hai fatta alex cam dovrà darsi da fare ottimo lavoro molto bene ci ha contattato un'altra officina las vegas kit raid con un auto raid puoi ignorare la strada assetto rialzato grande trazioni e ammortizzatori adatti a un terremoto con le auto raid l'asfalto diventa superfluo perfetto bello mi piace mi piace ok però mi sa che adesso è un po' presto lì per andarci caso mai ci andremo nel prossimo gameplay vediamo un po' e noi adesso ci andiamo a fare quest'altra bellissima gara qui no ecco in posta destinazione destinazione impostata si si vai se non sbaglio livello 50 è il massimo vabbè mi fa piacere qualcosa mi dice che ti piace l'approccio diretto ho una proposta una gara tu e io chi vince resta chi perde lascia la zona decidi dove ah ok va bene va bene allora si può iniziare a correre perfetto vai facciamo questa gara in singolo ragazzi qui richiede un livello 340 ai 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 ci provo ragazzi ma sono sotto le aspettative gli chiedi almeno un livello 340 vabbè vabbè io ci provo se poi non va lo farò nel prossimo gameplay vai sbirri maledetti scappiamo vai brado così vai ho la macchina sotto le aspettative quindi aia aia vai mi serve un po' di no ti ricarichi ti ricarichi ma dai però eeeh no no è in movimento si fin quanto dura no 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 mi serviva la macchina più potenziata qui vabbè oramai stiamo ballando quando balliamo fino alla fine corri corri qui corri scappa bradone scappa fuori uso serva un'ambulanza 10 4 vado 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 corri 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 bradone corri sono scappato grande medaglia oro anche con la macchina al di sotto del livello vai 361 ora si ora si si ragiona grande quasi livello 31 ma vieni ah ok ok credevo che era subito un'altra gara allora ragazzi io parcheggio qui ecco ok ragazzi spero che questo gameplay vi sia piaciuto io credo che ho fatto quasi tutto perfetto in questo gameplay ecco quindi gameplay numero 22 di tech crew concluso in compagnia del vostro diabotex ci sentiremo sempre sui prossimi gameplay di questo gioco e tanti altri ciao a tutti fenomeni ciao